Buongiorno fanciulli e fanciulli, allora scusatemi perché ci sono dei rumori molto forti che vengono dalla strada, momenti più o meno forti. Allora, io voglio fare un interattivo particolare perché ho unito alcune domande di vostre richieste, che più o meno ruotano intorno a uno stesso argomento. Però ve lo spiego bene per mettervi nella condizione di comprendere se il punto di partenza può andare bene per la vostra storia. In questo momento c'è il silenzio ed è una relazione clandestina. Ora, questo silenzio che ha conseguenza di tanti addi e riavvicinamenti, cosa vuol dire? Che lui ha chiuso per sempre? Questa è la prima domanda. Poi, si aspetta che sia tu a fare un passo indietro? Ma la terza domanda, la più interessante, immaginate questo. Anche uno scenario dove qualcuno è impegnato, tutte e due, perché poi la situazione può variare. Lui preferisce che tu abbia magari un interesse per un altro uomo, di modo che questo eventuale secondo interesse ti metta nella condizione di avere con lui solo il rapporto clandestino e non pretendere di più che non averti esclusiva. Cioè, ma è normale una cosa del genere? Un uomo può essere così? Preferisco che tu vada anche con un altro, tu sia con un altro, tu ami un altro, perché così è sicuro che non mi chiedi esclusività. E allora vivrei serenamente. Quindi, andiamo a vedere un po' quello che viene fuori. Vi ricordo che parlo come un uomo verso una donna per convenzione. Le carte le metto al dritto, ma le interpreto per come si danno. Attenzione a chiunque vi contatta a nome mio, non sono io, sono truffe. Le mie pagine ufficiali TikTok e Instagram seguono zero persone, così le potete riconoscere. Sì, dopo Monza, bellissimi i consulti in presenza. In realtà si ricomincia con i consulti alla vecchia maniera. Quindi mi potete contattare esclusivamente all'email tarocchiviaggioalchemico.com E niente, se non vi rispondo nell'immediato, perché rispondo sempre in tempi brevissimi, forse non mi è giunta l'email, potete rinviare. Io direi proprio di cominciare. Dunque, però tre carte io le voglio mettere all'inizio sulla dinamica karmica che c'è tra voi. Perché per me è fondamentale per inquadrare meglio quelle che saranno poi le altre risposte. Quindi al momento, tra di voi, che dinamica karmica c'è? Allora, schizofrenia non da intendersi come una schizofrenia psicologica. Certo, potrebbe anche esserci un pochettino un tipo di comportamento del genere. E' un comportamento del genere che va a bloccare in un presente che sembra non dare mai nessuna possibilità di evoluzione. Una situazione che è ancorata tra il passato e un futuro. Cioè, alla fine, si rimane bloccati. E non ci sono grandi cambiamenti. Perché lui non si mette in gioco? E non si lascia andare? Perché lui non lo fa? Parliamo soprattutto di lui, visto che tu sei più nella posizione, dico lei, che vorrebbe vedere un'evoluzione in questa storia. Quindi probabilmente è questa persona qui, cioè lui, che sta con le mani verso il passato, i piedi già verso il futuro. I dubbi li ha tutti dinanzi. Non si lascia andare a quei dubbi. Non passa attraverso i dubbi e non se li può lasciare alle spalle. Però non è neanche una situazione che potrà rimanere così per sempre. C'è il peso degli eventi che dall'alto spinge e fa curvare in maniera anche innaturale. E quindi alla fine è dolorosa la sua schiena. Perché lui deve comprendere delle cose. Una partenza, un parto. La coscienza che si fa evidenza. Quello che cerco di non affrontare le nubi come questo muro di ambiguità. L'ambiguità dei miei comportamenti verso di te. Ho anche delle mie paure, perché magari non mi espongo e non mi metto in gioco perché ho realmente paura. E a modo mio sto soffrendo. Vabbè, ma la dinamica karmica qual è? Quella delle anime gemelle. Cioè, ho chiesto tre carte. Ne avrei aggiunta anche una carta. Una quarta. Oggi, vabbè, lapsus e incartiamo le parole da paura. Però l'importante è aggiungere a risponso. Invece le carte sono state più che congruenti nel volerci dare una risposta perfetta che si conclude con la terza lama. Anime gemelle che devono avere il coraggio di guardarsi negli occhi. Ma lui sta dando le spalle al futuro. E solo il futuro ci parla degli eventi che devono accadere. E poiché questa condizione non è ancora attuale, è una condizione futura. Devo passare attraverso i miei dubbi, le mie paranoie, che hanno in realtà dato vita ad un muro di ambiguità anche nei tuoi confronti. Tu non riesci a comprendere le mie intenzioni, ma paradossalmente neanche io so quello che voglio. Non so neanche quello che non voglio, perché almeno se sapessi, o sceglierei totalmente il passato, totalmente il futuro. Invece no, resto nel mezzo. Quindi anche io non ti voglio lasciare andare. Cioè, io non mi voglio lasciare andare e non ti voglio lasciare andare. Però non voglio costruire e non ti voglio seguire. Ma non voglio neanche far finta che non sia accaduto nulla. Quindi sicuramente non è una persona risolta interiormente. Ora, quindi questo suo silenzio è una chiusura per sempre? Lui lo interpreta così? Da queste prime tre carte in realtà la risposta è già un no. Perché lui non ha mai aperto totalmente, ma non ha neanche mai chiuso. Quindi è fermo lì in una condizione di attesa. Faticosa addirittura. Quindi potremmo quasi ipotizzare, e poi lo vediamo con la seconda domanda, che lui effettivamente si sta aspettando un movimento da parte tua. Allora, non so quanto possa essere consolante il fatto di sapere che questa attesa non è totale indifferenza. Perché qui c'è comunque un lavoro dentro se stessi, lontano da tutto e tutti. Quindi non lo possiamo neanche inquadrare lì magari a scherzare, flirtare, amare, godersi il presente con un'altra, con l'altra. O a dedicarsi totalmente al lavoro. Il lavoro è comunque in questo caso una metafora, dove ogni evento nuovo che si presenta tra di noi e che ci troviamo a vivere mi permette di perfezionare comunque qualcosa. Un piccolo lavoro, un piccolo colpo, un elemento che viene cesellato in maniera certosina. Non è più il lavoro grossolano dei mesi e degli anni passati. Sto imparando delle cose, sto acquisendo un certo livello di maestria. Sono quasi pronto a fare un gesto concreto verso di te. Forse questo silenzio, se dovesse durare ancora per molto tempo, quindi se non lo vai ad interrompere e mi porti alla crisi, crisi che arriva perché non riesco più a stare in quella posizione di attesa, ecco che mi spingerà in maniera necessaria a muovermi. E come? Cercando di approcciarti con un gesto concreto. Quindi prima ancora di riavvicinarti con una promessa d'amore, con qualcosa di romantico, mi sentirò in dovere di fare qualcosa verso di te e va detto che io non lo sto escludendo a priori. Magari faccio questo tipo di ragionamento. Io per adesso non mi muovo, vorrei che si muovesse lei e quindi fino a quando riesco a resistere, tanto sto lì appeso in attesa, resisto. Poi se la situazione dovesse mostrarsi davvero terminata, chiusa e anche dentro di me dovessero iniziare a sorgere i primi dubbi che si fanno certezze, vabbè mi incammino. D'altronde io non sono così lontano da alvarcare quella porta, riaprirla ed espormi verso di te, è come se io mi tenessi dietro la porta. Quindi anche nella carta della coscienza di prima cosa abbiamo? Due persone separate da un muro, che se mettessero la mano così sul muro, uno avanti e uno indietro, si toccherebbero al di là di quella distanza sottile rappresentata dall'ostacolo. Quindi io ti sto pensando, tu mi stai pensando, tu mantieni la posizione, io mantengo la posizione, diventa un po' il gioco a chi resiste di più. Però allo stesso tempo sappi che rispetto al passato non la manterrò per sempre. E quindi ci sto ragionando e sto cercando di trovare un piano B, se tu non ti muovi in qualche modo ti devo riapprozzare con una qualche proposta. Sì sì, non è assolutamente finita qui, lui può anche trovarsi in una situazione interiore di confusione, non è una confusione ingestibile, però sicuramente ancora non ha ben chiara la sua volontà di agire come e quando. Sicuramente si riparte da dove avete interrotto, qualcosa che ha a che fare con la materia, con il corpo, quindi magari ti chiederà qualcosa di pratico, potrebbe anche riapprozzarti come nulla fosse mai accaduto, chiedendoti un consiglio. No no, si riparte. E ribadisco una cosa, perché tanto adesso facciamo la domanda circa il fatto che lui possa trovarsi nella condizione di aspettare un gesto anche da parte tua. Qui il riavvicinamento ci sarà e anche se all'atto pratico non state ancora compiendo nessuna gestualità visibile e concreta, a livello profondo vi state pensando e c'è il rammarico da ambo le parti. Ognuno ha le sue ragioni e quindi non le mettiamo in discussione, tu fai bene ad avere un certo punto di vista su di lui e ad essere delusa, lui non riesce a comprendere magari il perché della tua rabbia, in fondo potreste funzionare alla grande senza pretendere chissà che cosa di più l'uno dall'altra. Come abbiamo detto rispetto al passato però si pone il problema, rispetto al passato un pochettino sta maturando, un pochettino sta diventando più consapevole perché poi quella coscienza diventerà un'evidenza con il passare dei giorni e dei mesi del fatto che il legame con te ce l'ha. Quindi lui non mette assolutamente in discussione questo rapporto, è solo pronto ancora un po' per testardaggine ed orgoglio ad attendere che sia tu a muoverti, ma se non lo farai preparati perché si muove lui verso di te. E comunque secondo me quando lui si muoverà verso di te anche tu sarai proprio lì lì a un passo da fare no quel gesto, solo che se riesce a resistere un po' di più il gesto lo farà lui ed è sempre meglio perché lo fai esporre. Quindi nella sua testa c'è il pensiero, il desiderio e quindi questo è il motivo per cui potrebbe trattenersi che sia tu quello a fare per prima qualcosa verso di lui? Allora sì, assolutamente sì, il desiderio c'è ma sa che non lo farai e sa anche un'altra cosa che deve lasciar passare del tempo perché se lui provasse nell'oggi immediatamente ad esporsi verso di te potrebbe trovare la porta chiusa. Questa è la sua convinzione profonda, non vuol dire che questo debba corrispondere necessariamente alla realtà, a come stanno le cose, però questa è la sua convinzione profonda per quanto riguarda la situazione attuale tra di voi. Quindi lui il desiderio di vederti muovere e di fare qualcosa, di contattarlo, di compiere un gesto ce l'ha, assolutamente. Però la cosa più importante è che prima ancora di avere questa volontà profonda di vederti agire nei suoi confronti gli farebbe davvero piacere ma non lo pretende, quindi questo è importante. Lui non ha pretesa che sia tu a muoverti, né che sia tu a cercarlo, né che sia tu a scusarti. Ha il desiderio che una cosa del genere accada perché gli confermerebbe tante cose che poi a livello profondo magari non se lo sa spiegare razionalmente ma a livello profondo sente perché questo uomo non mette assolutamente in discussione che voi siete simili. Sembra un po' come nella carta degli amanti anime gemelle due corpi fusi in un unico corpo, lì due ali, qui due braccia. Siete profondamente simili anche quando siete distanti, anche quando la distanza è minima come quella di un muro se si fa silenzio sembra invalicabile, eppure c'è sempre il ponte, il sentimento c'è da parte di lui, lui sa che il sentimento c'è da parte tua, ci sono delle realtà oggettive per cui non la potete vivere la storia della luce del sole. Lui ha solo un altro approccio, lui vive molto più serenamente il fatto che se noi razionalmente accettiamo che tanto comunque coppia fissa non la possiamo fare, ma perché dobbiamo avvelenarci il presente pretendendo, aspettando, chiedendo di più, viviamoci quello che viene, come viene e godiamoci il momento. Quindi qui lui ti sembra un po' più indifferente o quantomeno ti sembra quasi che abbia l'approccio di colui che guarda l'altra come un oggetto, cioè tu per me sei un oggetto, sei l'occasione di un momento di sessualità, sei l'occasione di un momento di serenità, tanto poi io me ne torno a casa mia, tu te ne torni a casa tua e così andiamo avanti, la ruota che gira, 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 senza toccare mai terra, non si fa mai percorso lineare, ma diventa un discorso sospeso che gira intorno a se stesso. Quindi poi tu ti stanchi anche delle sue parole, dei suoi gesti, dei suoi atteggiamenti. In questo momento, l'abbiamo detto, lui comunque in qualche maniera ha dei dubbi, delle paure in generale, verso il futuro, verso il sentimento, non solo verso di te, ma proprio verso se stesso che approccia la questione sentimentale, quindi nella carta della schizofrenia non è che i dubbi non ce li ha, cerca di tenerli a bada facendo cosa? Unendoli. Cioè lui cerca di annullare i pensieri che si oppongono. È finita? No, non è finita. E vabbè, ma se c'è il pensiero opposto, allora forse al 50% è finita. No, io sto lì, mi attacco con i piedi, con le mani, ricuccio lo strappo. Ecco, quella carta sembra quasi voler dire io mi ostino e quindi ricuccio lo strappo, è solo questione di tempo, tu ti sei offesa, anzi, lo sai che cosa ti dico? Io penso che se tu ti sei offesa, ti sei offesa proprio perché non ti sono indifferente, perché in realtà ti piaccio, perché in realtà mi vuoi bene. Quindi io devo attendere, oppure devo accettare la tua volontà di attendere, perché è l'unico modo per riconnetterci, ricollegarci. Io non voglio perderti, lo so che non ti perderò, lo so che non mi perderai, tutt'al più posso vederti come una persona che se l'è presa perché è un po' permalosa, però poi all'atto pratico capisco anche che hai delle motivazioni comprensibili e quindi non ti posso assolutamente accusare di niente, perché io non ti posso dare quel di più che vuoi, lo sai, lo sappiamo, ma quello che ti do, quando riesco, è sincero. Quello che prendo è sincero, anche da parte tua, ma soprattutto è piacevole, ha un gran valore. Noi lo sappiamo che poi, uniti, ci completiamo, ci arricchiamo, non ci impoveriamo, non rubiamo nulla a nessuno, proprio perché non c'è la pretesa. Lui si sente, diciamo, piuttosto sereno con se stesso, perché mentre tu potresti anche aver provato a chiedere qualcosa in più di diverso, lui non si è mai esposto da quel punto di vista, quindi sente di aver rispettato anche gli eventuali tuoi obblighi verso terze parti e gli sembra normale che questa cosa debba avvenire anche da parte tua verso di lui, perché una cosa è certa, lui non mette assolutamente in discussione il rapporto, ma non mette neanche in discussione il fatto che non lo si possa vivere alla luce del sole. Quindi poi, se quello che c'è è così forte e sincero, noi dobbiamo cercare di trovare la quadra fra queste due polarità di una stessa situazione. Ora, ma lui davvero non proverebbe gelosia, e in questo momento si sentirebbe sollevato nel sapere che comunque tu hai un'altra situazione che fa sì che tu non possa assolutamente pretendere da lui di più. Quindi per lui questo potrebbe avere un po' un valore positivo, rappresentare la possibilità di tirare un sospiro di sollievo. Vediamo un po'. Allora, da un lato lui vuole stare al centro della scena, e quindi anche dovesse giungere un'altra persona, lui è il secondo, cioè la persona nuova. Io sono l'attore protagonista, i tuoi occhi sono su di me, e da un certo punto di vista la prima interpretazione che darei al fatto che tu possa farmi credere o dimostrarmi che hai un altro, è che tu lo fai per farmi ingelosire. Quindi in realtà tu mi stai facendo un dispettuccio, perché? Perché mi adori e vuoi solo me. Quindi diciamo che da un certo punto di vista la cosa la potrebbe trovare anche eccitante e strano, no? Come dire, ma guarda tu questa donna, ecco, si informerebbe, eh, cioè non rimarrebbe indifferente, si metterebbe lì, non ti farebbe nessuna domanda, non ti farebbe neanche capire che le cose le vuole sapere, e cercherebbe in tutti i modi di rubare con gli occhi, per capire se poi innanzitutto quello che tu gli stai facendo credere rappresenta, rappresenti una realtà o non. Quindi una cosa è certa, se una realtà accessoria e quindi parallela dovesse giungere in questo momento ad arricchire le tue giornate e quindi divenendo poi anche consapevolezza e certezza per lui, lui all'inizio la leggerebbe come, vabbè mi sta dicendo una stupidaggine, lo fa per vedere una mia reazione se sono geloso, quindi lui ti risponderebbe in tutti i modi tranne che mostrando gelosia, questo non vuol dire che non è geloso o non può essere geloso, però proprio non la proverebbe perché non ci crederebbe totalmente, poi inizierebbe ad informarsi. Ecco, se poi a queste informazioni che lui tenterà di carpire senza farti capire nulla, dovesse corrispondere a una realtà oggettiva, figurati questo corre, non è vero nulla che rimane indifferente. Però cosa fa? Cambia il suo atteggiamento o gli rode dentro questa cosa un pochettino la riesce a fiutare, però alla fine razionalmente si dà questa spiegazione, meglio così perché almeno mi alleggerisce da altre pretese? Allora, conflitto interiore non solo ma anche con te, voglio sapere chi è, voglio sapere cosa provi. Ah, vabbè, che atteggiamento particolare, quindi cercherebbe di comprendere se lui è ancora sul vertice della piramide, se lui è il primo e l'altro il secondo o se l'altro sta prendendo il suo posto e lo fa retrocedere nei tuoi interessi. Allora, prima di affrontare con te la situazione di persona, cercherà e cercherebbe in tutti i modi di capire rubando con occhi, orecchie, sentendo e vedendo. Il primo desiderio è che questa nuova storia ti possa andare male e che possa non durare, ma non te lo dirà mai, non affronterà mai la cosa direttamente, non mostrerà mai la sua sofferenza, ma interiormente questa sofferenza inizierà a mettere radice. E in realtà la vivrà un po' come una ferita d'abbandono, anche se non manifesterà questa cosa. E la prima reazione è quella dell'attendere un gesto da parte tua, la volontà di riavvicinarvi, il tuo cercarlo. Se tu dovessi sparire dalla mia vita perché c'è uno nuovo, mi manderessi totalmente in crisi, questo mostrano le carte in questo momento. Ma se tu dovessi riuscire a muoverti in equilibrio fra lui e me, cosa accadrebbe? Allora, sicuramente lo lasceresti a riflettere. E quello che la sua mente può e deve raggiungere come conseguenza di questa lucubrazione è comunque trovare un suo vantaggio. Cioè la potrebbe accettare solo se riuscisse a leggere negli eventi qualcosa che gli torna utile anche a lui. E potrebbe essere pensatore, letterato, mercante, pettegolezzi e chiacchiere, donna arrabbiata. Vediamo un attimo in rivelazione. Che porta però, allora, le carte fanno supporre che la reazione dell'accettare un'eventuale altra storia come una sorta di paracadute alla vostra ci sarà e c'è, ma solo dopo molto tempo e dopo una lunghissima fase di malessere e riflessione che lo porterà al confine tra cambiare e continuare invece a mantenere l'atteggiamento che ha normalmente. Cioè, una cosa del genere, non abbiamo la certezza al 100% che non lo possano fare esplodere, rinascere e cambiare. Potrebbe, però allo stesso tempo lui potrebbe mostrarsi talmente rigido e talmente chiuso da riuscire a superare anche questo colpo fortissimo. Perché non possiamo dare una risposta certa ad oggi al 100% per una o per l'altra delle plausibili conseguenze. All'inizio ho contraccolpo fortissimo, entro in crisi, quasi quasi mi espongo, poi però per qualche motivo mi trattengo. Se passa quella fase di crisi e la supero nella fase della riflessione del pensiero, poi dopo mi do una giustificazione razionale. Subentra l'atteggiamento del vantaggio e inizio a chiedermi, forse questa volta lei non può più avere con me degli atteggiamenti, non dico di aggressività, comunque anche di rabbia. Perché? Perché questa cosa torna utile a tutti, cioè mantenere tutto nascosto permette di far sì che altri non possano vedere, sentire e riferire. Quindi sì, il dubbio di essere stato declassato e quindi il retrocesso rimarrebbe. Fino a quando poi però, affrontando la questione con te circa il suo ruolo, tu non gli dessi conferma del fatto che lo vuoi ancora nella tua vita. Perché se tu lo tieni come amante, se ne potrebbe fare una ragione. Ma se tu lo scacci, ecco, questo potrebbe rappresentare un colpo inaspettato. Però dire che ad oggi abbiamo la certezza di un suo cambiamento uguale a trasformazione metamorfosi ancora no. Ma sicuramente un evento del genere lo porterebbe davvero vicino a un punto di crisi così intenso. Bene, aspetto riscontro. Bacione, ciao. Bacione, ciao.